Secondo me non abbiamo iniziato bene la partita, sembrava che eravamo un po' non pronte e invece siamo state brave a riprenderci e andare al quinto set, però l'abbiamo persa noi, secondo me. Potevamo fare di più, è vero, però sappiamo anche che questi sono i play-off e ci aspetta un'altra partita importante in casa e quindi oggi possiamo essere delusi, però da domani pensiamo alla prossima partita. Sì, certo, come ti ho detto, questi sono i play-off, fa parte del gioco, comunque non varia una squadra fortissima, lo sappiamo e per vincere contro di loro dobbiamo mettere qualcosa in più e cercheremo di farlo sabato.